grande interesse e partecipazione dei presenti per la presentazione in piazza vittorio veneto ad agropoli del libro del dottor andrea ricci biologo nutrizionista la dieta del benessere un manuale vero e proprio con 50 ricette corredate da fotografie valori nutrizionali e tanto altro un testo che vale la pena leggere da avere sempre a portata di mano in casa per non farsi trovare impreparati né a pranzo e né a cena insieme con roberta abbiamo scelto questi 50 alimenti e di cui ho curato un po le proprietà nutrizionali i valori però la cosa che abbiamo voluto dare in più perché come dicevi tu escono tanti libri sull'alimentazione sulla nutrizione anche di ricette quindi volevamo metterci qualcosa di nostro di più particolare e crediamo di esserci riusciti abbinando appunto i valori nutrizionali le proprietà degli alimenti ad altrettante 50 ricette che ha curato roberta e di queste ricette poi ovviamente ne abbiamo calcolato le abbiamo fatto un'analisi dietologica ma non per soffermarci troppo sui numeri sui valori ma per dare l'idea di come sia possibile comunque abbinare quelle che sono le proprietà i benefici degli alimenti senza perdere di vista anche il gusto perché oggi siamo un po troppo abituati a pensare alla dieta come un qualcosa di restrittivo no e di valutarla solo in base al calo ponderale cioè alla perdita di peso tralasciando invece il gusto il piacere di poter mangiare e di farlo secondo i principi di che sono proprio della dieta della dieta mediterranea e quindi oltre a questo abbiamo voluto dare queste ricette con le indicazioni anche particolari dei tempi di cottura di preparazione del costo delle ricette proprio per fare come ha detto luca nella prefazione un piccolo breviario quindi un manuale a tutti gli effetti che potesse entrare nelle case di tutti e dare giorno per giorno risposta a quella fatidica domanda oggi che cosa devo che cosa devo mangiare oltre a questo ho inserito anche degli esempi di piani alimentari senza grammatura ma solo per dare l'idea della distribuzione dei pasti all'interno della giornata gli abbinamenti di cibi migliori che è possibile fare e ho concluso con delle tabelle riassuntive del dei micronutrienti dei vari alimenti il libro la dieta del benessere edito dalla gpa edizioni e la nona pubblicazione dell'editore gianni petrizzo che racconta orgoglioso come è nata la casa editrice la gpa editore nata nel 2012 pensate siamo con andrea alla nona edizione a nove libri editati in praticamente quasi nove anni no dal 2012 ad oggi e abbiamo cominciato con giuseppe palmalagia che saluto perché ci segue da casa poi con un personaggio molto noto a me mario petrizzo mio papà che saluto da casa con lui abbiamo editato quattro libri e poi sono arrivati i giovani partendo da luca di bartolomeo che anche con me ha editato un bel libro di poesie dopodiché è arrivato giuseppe abbate che saluto sempre e poi andrea ricci tre giovani che mi hanno dato ancora più energia più carica e quindi nel perseguire questa mia passione che è anche quella di editare dei libri non solo quindi editore televisivo ma anche editore dei libri presenti alla manifestazione il sindaco adamo coppola l'assessore alle finanze roberto mutali passi e il consigliere delegato alla cultura francesco crispino che soddisfatti dell'iniziativa si sono complimentati con l'autore per l'ottimo lavoro puntiamo moltissimo sulla cultura ci fa stare bene in un contesto come questo quindi la presentazione di un libro e le idee che ne vengono fuori sono certamente molto molto bene accette da parte nostra conosco naturalmente scrittura di oggi insomma e voglio farti complimenti per la produzione Gianni perché comunque non è mai semplice come dire investire in questi campi e se lo si fa lo si fa soprattutto per passione e per voglia di dare qualche cosa agli altri alla comunità non c'è quasi mai un ritorno strettamente economico quindi questo ti fa onore e quindi di questo voglio farti naturalmente i complimenti nonostante le tante difficoltà di chiara mutali passi tutti noi agropolesi dovremmo essere orgogliosi di questa vitalità che pervade positivamente la nostra bellissima città l'ennesima dimostrazione di come appunto la nostra terra il cilento agropoli riesce a far nascere delle eccellenze oltre che delle eccellenze dal punto di vista naturalistico dal punto di vista alimentare ma delle eccellenze professionali e intellettuali agropoli veramente una città che punta anche e soprattutto sulla cultura complimenti a questi giovani complimenti a a quelle che riescono a fare all'industria che ci mettono danno la forza anche a noi di di andare avanti di cercare di sostenere nel più nel modo migliore possibile complimenti vivissimi ai tre giovani andrea luca e roberta per l'eccellente lavoro svolto dichiara francesco crispino delegato alla cultura non vi dice soprattutto quando salgono al proscenio della nostra città i giovani ed è importante valorizzarli importante dare spazio perché loro non sono il futuro della nostra città loro sono il presente di della nostra città questo è importante quindi vedere tre giovani qui a fianco a te tu non lo sei più ai miei quindi è veramente importante la prefazione è stata curata dal dottor luca di bartolomeo mentre le ricette inedite e le fotografie sono state realizzate da robert anillo l'impaginazione la grafica è stata curata da egno grattacaso inoltre l'importante momento culturale è stato suggerato dalla consegna di targhe ai presenti grazie a tutti